Taranto vive il dramma ambientale. Ormai la questione, la vicenda Arcelor Mittal ha travalicato la sfera nazionale e assorge purtroppo a dimensione internazionale. Il popolo tarantino si trova costretto a dover scegliere tra lavoro e salute, una scelta aberrante. Parliamo di diritto alla salute calpestato, parliamo anche dei diritti dei lavoratori calpestati in quelle condizioni poste e imposte d'Arcelor Mittal. Parliamo di tutto questo con il dottor Antonio Tramonte che è candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Taranto credo sia tuttora una delle poche province o parti dell'Europa dove un'intera comunità è sotto ricatto tra scegliere tra lavoro e tutela della salute. Ci troviamo in una situazione difficilissima, apparentemente difficile perché ovviamente abbiamo di fronte un siderurgico che ha una storia decennale che tanto danno ha fatto per questo territorio dal punto di vista ambientale, anche se ha offerto lavoro a tantissime persone e famiglie per tanti anni. Ovviamente questo è stato fatto svendendo il territorio e l'ambiente. Sappiamo benissimo in che situazioni versa. Allora bisogna scegliere quale futuro dare, proseguire o chiudere. Molti propongono la terza, cioè cercare di riconvertire l'ILVA in qualcosa di ecocompatibile. A idrogeno, a produzione di idrogeno, che sembra una cosa abbastanza fantasiosa. Sì, sembra fantasiosa soprattutto nei costi, rendiamoci conto che rimodernare l'ILVA avrebbe dei costi altissimi, questo non lo dice ovviamente il dottor Tramonte, lo dicono chi di economia aziendale se ne occupa di economia industriale. Articoli che vengono in continuazione anche condivisi sui social, con cui si possono apprendere dalle testate giornalistiche. Allora se è un problema molto importante che non deve essere preso o affrontato solamente dalle istituzioni locali, non nemmeno da quelli, semplicemente da quelli regionali, ma è un problema nazionale a tutti gli effetti. Il discorso è che le autorità istituzionali del nostro territorio dovrebbero un po' battere i pugni più di quanto hanno fatto finora, nel senso che bisogna fare una programmazione sull'ILVA, cioè cosa si decide di fare. Se l'ILVA deve essere chiusa perché ovviamente ci rendiamo conto che a Taranto non può essere più garantito uno stato di salute salubre, l'ILVA va chiusa. Ma l'ILVA va chiusa non va usata come slogan, così come è stato fatto quattro anni fa dagli amici 5 Stelle, chiudiamo l'ILVA. È molto semplice dire chiudiamo l'ILVA, vogliamo tutto e che l'ILVA non ci fosse, ma io penso che invece è importante fare un programma nazionale di chiusura programmatica dell'ILVA, ovviamente cercando di investire tantissimo in questo territorio perché credo che il problema fondamentale non è che l'ILVA non si vuole chiudere, perché chiudere l'ILVA significa investire enormi risorse economiche non solo per lo smaltimento dell'ILVA, ma anche per dare un futuro alternativo a questo territorio, che può essere il turismo, che può essere la pesca, che può essere l'agricoltura, con quesia richiedono degli investimenti enormi sul territorio. Questa deve essere una scelta che devono portare avanti le forze politiche, sia quelle locali, sia quelle regionali e sia quelle nazionali. Il problema di Taranto lo si risolve se veramente c'è sia la volontà di volerlo fare, sia se c'è ovviamente la volontà di investire in termini economici. Evidentemente Taranto interessa pochissimi, a quei pochi che interessano non riescono ovviamente a far incidere, a mettere per inciso la loro forza, non voglio pensare male, però come si suole dire, pensare male alcune volte è un peccato, ma naturalmente molto spesso ci si azzecca, forse in passato più di qualche nostro rappresentante, nostro e mio non era di sicuro, perché per adesso sono semplicemente candidato, credo che abbia svenduto non solamente questo territorio, ma a se stesso affinché le cose non potessero emergere e andare oltre. E questo dispiace veramente tanto.